Il primo trimestre 2022 Bitcoin ha chiuso in ribasso dell'1.46% rispetto al primo gennaio, segnando quindi un quarter di scarsa volatilità. Ma questo probabilmente cambierà presto. Sempre nel primo quarter del 2022 ha prevalso un sentiment di rischio e nonostante le pressioni di vendita negative Bitcoin è rimasto sopra il suo supporto di 37.500 dollari. Ora sembra che qualcosa sia cambiando, infatti l'indice Fear and Greed è passato da estrema paura allo stato attuale di neutralità. Ma quindi cosa possiamo aspettarci ad aprile per Bitcoin e Lealcoin? Bene, lo vediamo insieme dopo la sigla. Benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Ciao e se non mi conosci sono Stefano De Benelli. Ho sempre avuto la passione per il settore finanziario, infatti sono stato promotore finanziario per diverso tempo, ma dal 2016 ho conosciuto il settore delle criptovalute e me ne sono letteralmente innamorato. Da lì in poi è sempre stato un continuo informarsi, un continuo approfondire e fino ad essere arrivato a livello odierno. Ad ogni modo, anche se sono stato promotore finanziario, non ti darò consigli finanziari, infatti tutto quello che vedrai all'interno di questo ed altri miei video nel canale YouTube è al solo scopo informativo, educativo e di intrattenimento. Per vedere un qualcosa sul grafico, alla fine del trimestre Bitcoin ha tentato un attacco alla media mobile a 200 periodi, intorno ai 48.300 dollari, ma è stato prontamente respinto ed è ritornato in zona 45.000. In quest'ultimo periodo c'è stato un susseguirsi di notizie non proprio positive, l'ultimo è stato ad esempio il Parlamento Europeo che ha approvato alcune regolamentazioni per le criptovalute, qualcuna anche molto discutibile a mio modo di vedere. Inoltre, sempre nel primo trimestre del 2022 abbiamo visto nuovi lockdown in Cina dovuti alla pandemia da Covid-19. Abbiamo assistito alla barbarie dell'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina, con conseguenti bombardamenti, morte e distruzione. Inoltre, la curva dei rendimenti dei treasury americani si è pericolosamente avvicinata all'inversione. Assolutamente quando questo accade è un possibile preavviso di una recessione. Oltre a questo c'è anche una forte crisi legata al settore manufatturiero cinese. Quindi insomma, ragazzi, chi più ne ha, più ne metta. C'è anche un botto di altra roba, ma insomma, vabbè, è inutile farla troppo lunga. Ora quindi, come abbiamo visto, la situazione non è affatto delle più rose. Oltre a questo, un cigno nero è sempre dietro l'angolo, visto proprio il periodo che stiamo vivendo. Un cigno nero è un evento non prevedibile, ma di forte impatto che può influenzare in maniera negativa i mercati finanziari e con essi portarsi dietro anche il mercato delle criptovalute. Ma nonostante questo, Bitcoin ed alcune altcoin hanno avuto un marzo incredibile e inaspettato. E quindi che cosa ci dovremmo aspettare per aprile? Tralasciamo il grafico, l'analisi tecnica e concentriamoci su alcuni news ed eventi che possono spingere la situazione in maniera importante. Ad esempio, voci di corridoio dicono che probabilmente domani, da quando è andato online questo video, sia il 7 di aprile, magari tu lo vedi un altro giorno, ad ogni modo si vocifera che alla conferenza di Bitcoin a Miami, alla quale hanno partecipato anche tantissimi ragazzi di YouTube che ne approfitto per salutare, la piattaforma Apple Pay potrebbe annunciare la sua integrazione con Bitcoin. Ragazzi mei, se così fosse probabilmente, questa è sicuramente una notizia che potrebbe dare una grossa spinta a Bitcoin e magari potrebbe portarlo a risalire sopra il livello di 50.000 dollari. Inoltre, già dalla fine del primo trimestre del 2022, Terraform Labs, l'azienda dietro Terra Blockchain ed Anchor Protocol, sta aumentando la sua riserva del protocollo stesso acquistando Bitcoin. Ora, se non sai di cosa sto parlando è perché probabilmente ti sei perso qualche video oppure mi hai appena conosciuto. Per non restare indietro ti invito ad iscriverti al canale ed attivare la campanella. Seleziona tutte, altrimenti ti perdi le news. Ad ogni modo, tornando al discorso e da alcune stime della Terraform Labs stessa, sembrerebbe che questo acquisto di Bitcoin dovrebbe andare avanti addirittura fino al prossimo 22 aprile, completando così la prima tranche di 3 miliardi di dollari in controvalore di Bitcoin. Parlo di prima tranche perché l'azienda ha in progetto nei periodi successivi di arrivare fino ad avere addirittura nelle sue riserve 10 miliardi di dollari in controvalore di Bitcoin. Vediamo adesso a Grace Cale che sta tentando da diverso tempo di rilasciare il suo spot ETF su Bitcoin e sempre prontamente respinto dalla SEC. Siccome si sarebbe rotto le scatole, starebbe pensando seriamente di citare la SEC stessa in giudizio. al fine di ottenere quello che tutti noi ci auguriamo per vedere un prezzo di Bitcoin salire ulteriormente, ossia questo benedetto ETF spot. In base a queste informazioni che abbiamo appena visto, potrei tranquillamente dire che aprile potrebbe essere un mese importante per Bitcoin, un mese rialzista. E quello che penso io è che secondo me sarà effettivamente così, ma sarà anche un mese carico, zeppo di volatilità. Infatti, il volume dei future open interest da inizio marzo sta registrando una tendenza al rialzo. Solitamente quando i volumi di open interest aumentano sugli scambi di derivati, seguono periodi di forte volatilità e da eventi di liquidazione. Per quanto riguarda invece gli acquisti di Bitcoin, sebbene diversi siano stati effettuati da investitori di medio periodo, quelli che detengono Bitcoin per uno o due anni circa. E quando assolutamente questo accade, segna un andamento di prezzi negativo nei periodi immediatamente successivi. Allo stesso tempo però, i detentori a lungo termine di Bitcoin non hanno venduto molti Bitcoin rispetto ai cicli precedenti. E questo invece è un segnale opposto rispetto a quello che ho appena citato. A questo punto mi viene da pensare che magari forse Bitcoin potrebbe scendere nei primi giorni del mese per poi avere un impulso rialzista verso la fine? Per quanto riguarda invece le altcoin, in questo caso prendo ad esempio Ethereum. Qual è il migliore altcoin se non la regina? Graficamente parlando, la zona dei 3.500-3.600 dollari circa è una zona chiave per Ethereum. Il grafico di Ethereum contro dollaro sembra migliore rispetto a quello di Bitcoin. Probabilmente questo è dovuto alla notizia dell'imminente merge della blockchain di Ethereum e conseguente passaggio al proof of work. Anzi, se vuoi approfondire, ti lascio qua sopra in alto il link al video che ho fatto che tratta proprio questo argomento. Il grafico di Ethereum contro Bitcoin sembra più favorevole al primo e se così fosse potremmo assistere ad una performance migliore di Ethereum contro Bitcoin e questo potrebbe cambiare il trend fino a spingerci a lasciare la Bitcoin season per riavvicinarsi alla altcoin season. Se vuoi sapere qualcosa di più riguardo questo grafico e quello che faccio io in queste situazioni ti lascio sempre qui sopra il video di approfondimento riguardo questo aspetto. Ora, facendo un sunto della situazione possiamo dire che probabilmente aprile sarà un mese rialzista sia per Bitcoin che per alcune altcoin soprattutto quelle a maggior capitalizzazione. C'è sempre però il rischio di eventi negativi improvvisi che possono capitare da un momento all'altro. D'altronde è sotto gli occhi di tutti che stiamo vivendo una situazione macro e geopolitica senza precedenti, fuori da ogni logica. E questo potrebbe causare anch'esso una risposta completamente fuori logica sia nei mercati finanziari che nel mercato delle criptovalute. Pertanto mi raccomando se fai del trading stai molto attento utilizza sempre gli stop loss e in questo periodo stai proprio buonino con le leve finanziarie. Non è un consiglio finanziario questa è un'opinione mia, quella di Stefano. Se sei invece un holder di Bitcoin facciamo holder per restare in tema di criptovalute o anche di altre criptovalute ricordati che i fondamentali non sono in nessun modo modificati e stiamo andando incontro sì a periodi di forte turbolenza ma anche sempre più verso un'adozione di massa delle cripto. Se pensavi che questa transizione sarebbe stata facile, veloce e senza scorie beh mi dispiace dirtelo ma sicuramente ha preso un granchio ma ti assicuro che personalmente parlando sono sempre più convinto giorno dopo giorno delle mie amate cripto. Se hai trovato utile questo video lasciami un bel like qua sotto fammi anche sapere nei commenti del video un tuo pensiero che cosa farà secondo te Bitcoin e le cripto ad aprile oppure nei periodi immediatamente successivi dimmi insomma la tua opinione è sicuramente interessante se vuoi conoscere la mia opinione su Ethereum e quello che potrebbe fare una sorta di gioco o previsioni ti invito a cliccare qui sul video che ti è apparso ciao